Aiutare le imprese a superare i problemi che ne ostacolano lo sviluppo attraverso consulenze basate su singole situazioni aziendali. È una delle attività del servizio di CNA Modena, un'analisi multidisciplinare che si basa su diverse metodologie e ambiti di intervento. Ma dato che i casi concreti valgono più delle parole, siamo andati a scoprire quanto è avvenuto nella Molding Service, azienda di Fiorano con una sessantina di dipendenti che si occupa della realizzazione di manufatti in plastica. Ce ne parla Francesco Palumbo, che della Molding Service è uno dei soci. Siamo sul mercato da circa 20 anni, e a un certo punto ci siamo resi conto che, man mano che cresceva comunque la nostra azienda, diventava sempre più difficile far capire alle persone che lavorano con noi quelli che sono gli obiettivi dell'azienda e ci sembrava che non riuscivamo a capire se il problema era nella nostra comunicazione o se erano poco stimolate le persone che lavoravano da noi. E quindi a un certo punto abbiamo deciso di affidarci comunque a un consulente esterno per capire quale poteva essere il problema. Allora, con CNA abbiamo fatto un'analisi e abbiamo visto che in effetti ci sono stati tre o quattro problemi da risolvere. Uno era comunque l'organizzazione, quindi riorganizzare un po' tutta la struttura. L'altro era relativo ai ruoli, quindi definire bene i ruoli delle persone. Poi dopo c'era anche da sistemare quella che era proprio la comunicazione sia della direzione aziendale, ma anche dei vari collaboratori più stretti nei confronti poi di tutti gli operai. No, individuato il problema poi la soluzione è stata abbastanza semplice. Abbiamo avviato, intanto siamo partiti da un caposalto che è quello di mettere al centro le persone. e quindi a questo punto, visto che comunque il nostro è un lavoro soprattutto manuale, dove la persona conta molto. Allora abbiamo deciso intanto di partire da questo principio qua, dobbiamo mettere al centro le persone. Una volta che abbiamo deciso di mettere al centro le persone, abbiamo avviato un percorso di lavoro fatto proprio sulle persone, dove tanta formazione, quindi è stato fatto un lavoro di formazione comunque di gruppo, a questi sono seguiti comunque dei percorsi di coaching individuali, soprattutto con quelli che sono i collaboratori che lavorano a stretto contatto con la direzione. Finito il percorso di coaching individuale, sono stati fatti nuovamente dei percorsi di gruppo, proprio perché l'obiettivo era quello di fare squadra e di coinvolgere le persone sempre più. Tra l'altro in questi percorsi di gruppo, a un certo punto è stata coinvolta anche la direzione aziendale, anche perché bisognava trovare il modo per comunicare il meglio quelli che sono gli obiettivi e la vision dell'azienda. I risultati sono stati degli ottimi risultati, perché a un certo punto il gruppo di lavoro non è stato più un gruppo, ma è stata una squadra, tutti hanno chiari quelli che sono gli obiettivi, le persone sicuramente sono più motivate, perché si sentono comunque parte del progetto e si sentono al centro del progetto, quindi non sono marginali, ma hanno capito che sono loro il motore dell'azienda. Per un semplice motivo, noi lavoriamo da 20 anni con CNA, l'abbiamo sempre coinvolta nelle varie scelte aziendali e ci ha sempre supportato nello sviluppo dell'azienda, sia dal punto di vista contabile che anche dal punto di vista organizzativo. e comunque abbiamo trovato in CNA un team di esperti che hanno capito da subito quelle che sono le esigenze della molding e poi loro comunque sono molto presenti proprio nel tessuto imprenditoriale delle piccole e medie imprese, quindi capiscono bene quelle che sono le esigenze delle imprese. Non è stato difficile per noi fargli capire dove volevamo arrivare e insieme abbiamo raggiunto comunque questi obiettivi. non sono un costo, ma sono un investimento. Sono un investimento perché noi per anni abbiamo sempre investito in azienda per comprare macchinari, per ampliare anche le dimensioni dell'azienda e nel momento in cui ci siamo resi conto che comunque il personale è una risorsa alla stregua di un impianto, diventa a quel punto indispensabile investire anche sul personale. Quindi non è un costo, ma è un investimento perché il costo finisce lì. L'investimento comunque è un costo che alla fine ti ritorna e ti dà dei risultati. Grazie mille!